e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti sì questi sono i bull glasses e no non sono pazzo il motivo per cui ho deciso di iniziare così è per controbilanciare un po tutto questo panico che vedo in giro e che secondo me non è ancora il momento di avere adesso non voglio fare il permabull ovviamente sapete che la razionalità deve essere la nostra strada quindi né panico né permabullismo come cavolo si dice ma una via di mezzo e quindi ho cercato di mediare la situazione perché dico questo beh perché effettivamente la situazione non è delle migliori cioè gli ultimi giorni diciamo che sono stati un po bruttini però chiamare già il bear market è prematuro come vedete dal grafico settimanale il mio consiglio quando si hanno dei dubbi sull'impostazione sulla struttura del grafico è zoom out quindi andare a fare un attimino un passo indietro e vedere un time frame un po più ampio cosa ci dice questo time frame allora ci dice due cose principalmente la prima è che macroscopicamente siamo ancora in una situazione bullish non volevo fare questo schifo ma volevo fare una roba del genere e in seconda battuta che l'ultima parte del movimento quindi questa per capirci è chiaramente una correzione molto forte uno storno molto forte ma che va a bilanciare quella che è stata anche l'ultima leg up altrettanto forte da una parte abbiamo una due tre candele verdi queste tre per capirci e dall'altra parte abbiamo una due tre quasi quattro candele rosse tutte che hanno una cosa in comune allora le tre candele verdi belle ampie belle piene quindi direzionali come le definisco io e le tre candele rosse che vediamo da questa parte allora due sono direzionali questa in realtà ni nel senso a una candela poco significativa comunque il fatto che abbiamo una leg up fortemente direzionale e una correzione altrettanto direzionale comunque una dopo l'altra in seguito l'una all'altra ci fa capire che la situazione è di equilibrio l'altra cosa importante da capire è che la struttura rimane quella precedente io dico sempre siamo in una certa situazione fino a prova contraria quindi bullish o bearish fino a prova contraria e la prova contraria proprio l'invalidazione della struttura in questo caso la struttura che è presente su questo grafico e su questo time frame è quella di higher highs e higher lows guardati low 1 2 e per adesso 3 chiaramente questo è un punto interrogativo perché se il prossimo low dovesse essere più basso allora avremmo un bel problema ma se questo low tiene supponiamo che adesso non voglio dire che succede così ma immaginiamo che questo sia il bottom e adesso ripartiamo non c'è nulla di diverso di della situazione come era poche settimane fa ok sia chiara questa cosa l'invalidazione di questa struttura fatta da higher low è la prima cosa che deve accadere al fine di poter dire bene ci stiamo muovendo siamo in transizione da bull market a bear market se ciò non accade a mio parere non c'è ancora questa transizione stamattina ho fatto un sondaggio sia su twitter che su telegram dove vi ho chiesto se secondo voi era iniziato il bear market e mi ha stupito perché il 37 per 100 su telegram e guardate su twitter ve lo condivido anche con voi allora vediamo eccolo qua e il 31 ecco su twitter siete un po' bullish un po' più bullish e il 31 e il 37 su telegram avete votato sì quindi per molti molti no però comunque una percentuale rilevante è già iniziato il bear market è presto la mia visione che è presto al momento siamo in una fase di indecisione equilibrio io la chiamo perché abbiamo uno storno ripeto molto forte che si contrappone a un'ultima leg up molto forte quindi equilibrio sull'ultima fase il tutto però introdotto inserito contestualizzato in un macro che è ancora bullish poiché la situazione complessiva vedete è fatta da higher highs e higher lows se andiamo a vedere tra l'altro il grafico mensile aspettate che cancello questi scarabocchi che sarebbero i nostri low sul settimanale se andiamo a vedere il grafico mensile tac vedete che si rende ancora più evidente ancora più sottolineato quanto questo livello che è a 43.000 ed intorni sia importante perché oltre ad essere il precedente low sul settimanale è anche l'apertura mensile dell'ultima leg up quindi questo supporto che vedete cerchiato cioè xato con di rosso e rettangolato in verde dove c'è anche dentro quest'area di liquidità compresa dalle due shadow del precedente low è il supporto fondamentale che deve tenere se vogliamo continuare a mantenere la struttura attuale cosa può succedere in futuro poi si può prendere la palla di cristallo e immaginare gli scenari possibili possiamo partire dal peggiore in assoluto quindi lo scenario bearish ovvero che adesso magari facciamo un rimbalzino e poi pa pam perdiamo anche questo supporto allora ahimè la struttura cambia abbiamo un lower low sul settimanale e con buona probabilità poi andremo a fare anche un lower high e la probabilità complessiva macro di tendere al bearish aumenta e con essa aumenta il rischio che il bear market poi sia duraturo abbiamo anche tuttavia una serie di possibilità intermedie ovvero la possibilità per cui adesso andiamo a abbiamo già giocato vedete con questa liquidità abbiamo fatto il il flash crash proprio negli scorsi giorni grazie a liquidazioni a catena stop loss panic sell e quant'altro che è già andato a pescare proprio da questo pool di liquidità se adesso andiamo o a pescarci ancora o a rimbalzare poi pescarci ancora e poi però andiamo a fare un bottom locale che può essere qui o può essere o può essere qui o può essere qui poco cambia ok cosa succede succede che ci spostiamo in una fase laterale fase laterale su time frame weekly settimanale significa comunque non una fase laterale destinata a durare 10 15 giorni ma probabilmente si parla di qualche mese perché perché dobbiamo trovare una volta supponiamo uno scenario intermedio tipo così dobbiamo andare a cercare poi il prossimo high che può essere equal high lower high oppure higher high non si sa mai se se ci sono ancora i bulls che prendono il controllo e poi di nuovo ridefinire la struttura ma se andiamo ripeto a fare un higher low di poco come può essere ad esempio qui oppure un equal low le probabilità di lateralità diventano importanti tra l'altro un'altra osservazione che mi sento di fare avevo anche spiegato il tutto in maniera più sbrigativa forse nel post che ho fatto oggi stesso su telegram stamattina stessa ho cercato di fare un'analisi un po' omnicomprensiva proprio per riportare un po' tutti alla lucidità ho detto che una una cosa insomma degna di nota è il fatto che in questo storno sempre su questo time frame sto dicendo abbiamo solo candele rosse una due tre e ora stiamo facendo la quarta questo vuol dire che c'è uno scarico importante da un punto di vista di proprio domanda offerta abbiamo offerta 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 e basta quindi adesso dovrà arrivare prima o poi un rimbalzino no il classico storno la classica il classico respiro in controtendenza rispetto al movimento principale noi stiamo parlando di un l'ultimo movimento quindi non il più il macroscopico ma l'ultima parte e il movimento chiaramente ha direzionalità ribassista ripeto l'ultima parte ha quindi il movimento dal top ad adesso direzionalità ribassista molto forte quattro candele rosse a fila arriverà lo storno verde e teoricamente cioè probabilisticamente è molto più probabile che questo storno verde sia un rimbalzo prima di una seconda leg down quindi un altro errore da non compiere è confondere quello che sarà lo storno che è probabilissimo e che magari arriverà già questa settimana o magari la prossima con una ripartenza bullish a meno che ovviamente non ci siano segnali di domanda che sovrasta l'offerta come un candelone verde che ti va a chiudere direttamente qui vabbè lì la situazione cambia perché è assorbimento immediato quindi cambia proprio la dinamica ma se abbiamo un'altra candelina rossa e poi facciamo una candela verde così e magari anche un'altra così senza troppa direzionalità la probabilità è che poi ci sarà un'altra candela di leg down o altre due candele di leg down quindi ripeto non scambiare il rimbalzo durante uno scarico così forte per una ripartenza bullish questo non cambia però la visione macroscopica questo ve l'ho detto solo perché secondo me ora bisogna concentrarsi sulla struttura in fase di costruzione quindi se dovessimo avere ripeto uno scenario del genere questo supporto è ciò che dobbiamo tenere sotto stretta sorveglianza che era anche tra altro quel supporto se vi ricordate alla base dell'idea che avevamo di costruzione di una posizione qua giù sul ritracciamento con stop loss proprio in caso di chiusura sotto a questo low cioè la perdita del nostro low quello è sempre il trigger event per dire insomma qua iniziano a essere un po' cazzi inizia a essere un attimino bearish la situazione ma se al contrario facciamo anche il nostro rimbalzo ritestiamo comunque questo pool di liquidità arriva la domanda e inizia a invertire la situazione andiamo quindi poi a cercare il nostro high potrebbe succedere che andiamo a fare non lo so una cosa di questo tipo tac 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 andiamo a cercare l'high poi magari facciamo una lateralità una triangolazione oppure andiamo a costruire che so io una roba del genere con un triangolo a tendenza rialzista si crea una nuova struttura bisogna avere pazienza non è il momento di avere fretta questo quindi se si vuole provare a costruire una posizione più ad ampio respiro la struttura da tenere sotto controllo è quella quindi stando attenti ai falsi breakdown quindi magari andiamo a sweepare la liquidità qua sotto per poi risalire sopra magari addirittura andiamo a sweeparla da qua sotto e così via però il nostro riferimento per dire la struttura è incrinata è persa è la perdita quindi con chiusura della candela qua sotto la perdita del nostro supporto 40 42 mila che è il livello che sta esattamente sotto al low precedente questo è il quadro generale magari alla fine stando anche alle vostre domande o qualsiasi dubbio che avete andiamo a vederlo più al microscopio con anche tra l'altro il grafico daily che magari ci aggiunge qualcosa di utile ed interessante insieme alle altre varie coin che stanno facendo parlare di sé non so se avete visto la price action di luna in questi giorni è stata una cosa mai vista e vi parlo io che sono comunque qua dentro non sono particolarmente vecchio in termini di cripto perché sono dentro dal 2017 ma non mi ricordo una situazione simile cioè durante un giorno dove il mercato è dampato complessivamente aver fatto un all time high nuovo questa è la situazione di luna che poi oggi ha ritracciato un attimino ma perché era totalmente folle guardate luna alla facciaccia di tutto il resto che crollava lui ha fatto il time high in dollari e neanche in btc in btc sì ovviamente ma pure in dollari cioè questo è clamoroso incredibile e questo magari ci si può speculare che sia anche in vista no durante un bear market se ci sarà il bear market e qua facciamo un altro scongiuro speriamo che non ci sia ovviamente io non voglio fare il perma bear non è da me ma nel caso di possibile bear market la domanda si sposta molto sulle stable coin e è emersa una nuova stable coin quest'anno si chiama ust coi suoi 20 per cento di rendita di apy stabili sostenibili con la yield reserve in crescita cosa c'è di meglio durante un bear market che parcheggiare la liquidità in ust e dimenticarsene su anchor io dico niente cioè ripeto c'è di meglio sicuramente se si attivi si farma di qua di là si conosce si capisce eccetera ma parlando da utente medio in una situazione di bear market adesso ci sono infinite opportunità in più rispetto al 2017 nel 2017 non c'era la defy non c'era la cefai non c'era una mazza potevi soltanto vendere fare cash out e aspettare il bottom oppure shortare per andare a speculare appunto sulla fase ribassista adesso la musica è cambiata ed è cambiata molto perché c'è tutta quella parte di defy c'è tutta quella parte di play to earn che rimane in piedi chi vuole giocare a ax infiniti continua a giocare anche in bear market magari anche più contento che paga meno gli axi no quindi è una fase anche di possibile accumulazione in questi termini chi gioca a sorer continua a giocare a sorer chi ha i suoi nft continua a comprare nft lì non me ne intendo più di tanto ci sarà sicuramente uno storno ma capite il discorso è diverso cioè non c'è più solo la speculazione nel 2017 potevi soltanto comprare vendere long short leve mica leve c'erano le opzioni insomma potevi speculare adesso c'è molto di più che puoi fare puoi farmare puoi giocare puoi fare n mila cose e quindi sono curioso veramente di vedere come come sarà come verrà affrontato dal mercato questo nuovo scenario luna secondo me ci ha dato un po una come dire una piccola anticipazione di quello che potrebbe essere comunque adesso facciamo rapidamente due un excursus su poche cose che abbiamo da dirci perché sono veramente poche e poi passo la parola a voi oggi vorrei veramente rispondere il più possibile alle vostre domande cercare di stemperare il panico no panic dai non ancora perlomeno perché se è vero che la situazione non è particolarmente rosea cerchiamo di non farla peggiore di quella che effettivamente è allora questo ce lo teniamo qui come memorandum e andiamo a vedere che succede 1 tokenomics di tonic e airdrop parolina magica che piace a molti allora tonic è il token di tectonic che sarà la prima piattaforma di landing su chronos super iper attesa oserei dire perché che dire è una piattaforma di landing da fa cioè fa diciamo ufficializza la defi su una certa chain finché non ce l'abbiamo non si può parlare di ecosistema defi completo e tectonic era insomma un work in progress già come dire sponsorizzato da prima dell'uscita da prima dell'uscita di chronos tutti noi l'aspettavamo quindi ci sarà un airdrop a tutti gli holder del token vvs attenzione questo è unexpected completamente in gennaio 2022 io sono un farm and damper di vvs quindi probabilmente non avrò diritto minimamente a questo no ma in realtà c'è ancora tempo guardate non avrò diritto non lo so perché ripeto c'è ancora tempo lo snapshot verrà fatto in futuro scelta strana è anche quella di fare uno snapshot in futuro come ha impattato tutto ciò sul prezzo di vvs adesso sono curioso comunque 500 3 6 9 500 billion di tonic di token tonic verranno airdroppati agli holder di vvs adesso andiamo a vedere meglio la come viene calcolata l'allocazione ma lo snapshot quindi la fase la come dire la fotografia degli address e dei loro balance verrà fatta il dal 18 gennaio in poi non si sa esattamente quando è randomly generated time stamp ok quindi vediamo e il 14 di febbraio quindi a san valentino riusciremo a fare il redeem di tonic e che bello è un bel san valentino così sperando che nel frattempo non avremo dampato al all'ade oppure più in profondità per essere elegibili per l'air drop un address deve soddisfare almeno uno di questi criteri al momento dello snapshot quindi sempre in futuro vvs minimi holdati 200.000 oppure vvs minimi in staking nella glitter mine che è quella di vvs stesso 200.000 e oppure nei farm quindi in sostanza bisogna avere o detenere vvs passivamente oppure averli attivi o nella glitter mine oppure in una crystal farm vvs cro vvs usdc o vvs usdt e in particolare bisogna avere queste quantità minime di token lp la montare illustrativo potrebbe cambiare lo confermeremo eccetera 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 quindi questa è la situazione token utility a che cosa serve tonic servirà da mettere al sicuro il protocollo community insurance interessante interessante quindi il token tonic si potranno mettere in staking vincolare per generare liquidità dare liquidità al protocollo da usare in caso di emergenza quindi una sorta di assicurazione contro danni collaterali attacchi al protocollo problemi non lo so bug complicazioni varie interessante questo mi piace vi dico la verità queste insurance native sono tanta roba sono credo fondamentali per il benessere di una chain terra con il suo ozon e adesso mi piace l'idea che cronos abbia quella di tonic la supply sarà di 500 trilioni via si vola qua e ha rubato la la token omics da shiba inu no scherzo l'air drop sarà quindi dello 0 e 1 per cento ai vvs holder community incentive quindi ci sarà mamma mia il 50 per cento madonna santa ci sarà l'impossibile da farmare l'impossibile incredibile vabbè che dire molto inflattivo quindi nei primi anni in particolare abbiamo un inflazione non indifferente token release vedete si parla dunque partiamo da 150 abbiamo quasi un cento per cento di inflazione sul primo anno notevole sul secondo anno da 2 80 fino a 350 quindi la riduciamo un po ma parliamo di almeno tre anni iper inflattivi quindi valutate voi se può valer la pena oltare oppure no a me non piacciono più di tanti token inflattivi comunque valeva la pena andare a fare un check adesso però andiamo a vedere come ha reagito vvs perché sono curioso di vedere se l'ha fatto munnare oppure no vediamo fatemi sbloccare il wallet vediamo 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 no spoiler è guai a voi se me lo dite perché io mi aspetto allora vediamo vediamo ci sono i grafici qua e mi ricordavo che dovrà price proprio se ne sbattutissimo altro che se ne sbattutissimo continua continua a dampare il prezzo di vvs non sembra avere particolare intenzione di aumentare di prezzo però insomma magari prima qua si gioca poi su cioè entra in gioco tutta una serie di strani comportamenti no uno sa la data futura e magari dice boh aspettiamo che scenda ancora un po e poi accumulo però di sicuro mette buying pressure questo può essere interessante come dato poi dunque al di là di questo cos'altro avevamo a ok a proposito di airdrop astroport ha posticipato il lock drop che doveva iniziare oggi ha posticipato a martedì prossimo quindi una settimana un giorno più avanti ok quindi tutto rimane uguale a parte che inizierà tra una settimana anziché oggi poi ultima notizia così proprio in volante la bina smart chain assieme a danny mocha brands che ha comunque un marchio noto ormai nel mondo del blockchain gaming ha lanciato un fondo da 200 milioni di dollari dedicato proprio al blockchain gaming e agli nft sulla bsc quindi insomma la bsc sta cercando di diventare sempre più competitiva ultimamente aveva perso trazione un po a causa delle nuove chain dei nuovi layer 1 e layer 2 che sono emersi e adesso sta cercando di tornare alla ribalta ma sappiamo bene che essendoci dietro il mondo binance non penso che verrà dimenticata ecco la bsc credo che troveranno un po sempre il modo di farla emergere e riemergere bene ora direi che possiamo non so se c'è qualcos'altro da commentare oggi ve l'ho detto volevo concentrarmi di più sui madonna spell cosa è successo sui grafici sul mercato l'albero di natale ha trovato le radici e adesso sta ritornando vediamo poi come andrà poi cosa abbiamo in profit oggi loop ring che però vabbè contro bitcoin sta andando bene ma non benissimo in realtà e invece ethereum ero curioso perché anche ethereum non si è comportato male in questi ultimi giorni di dump contrariamente alle altre altcoin se guardiamo la dominance è però la dominance vedete in realtà no se guardassimo la dominance escluse le top cap secondo me sarebbe molto più in rimbalzo però guardate che strano che proprio grazie alle top cap ethereum luna ma non solo abbiamo una dominance che è in trend ribassista cioè nella fase o meglio ribassista del del suo range perché ormai sta palleggiando in questo modo nella fase ribassista nonostante il forte dump di bitcoin è un'altra cosa anomala quindi di anomalie ce ne sono durante questo flash crash sono curioso ripeto di vedere come andrà a risolversi perché di solito quando bitcoin flash crash non so se avete presente quello che succede è che le altcoin tracollano contro bitcoin e di fatto io mi ricordo che il giorno del flash crash le alt alt btc avevano una media di meno 7 meno 8 per cento quindi vuol dire meno 20 e oltre contro usdt eppure la dominance è rimasta tale perché ethereum ha pompato del 5 6 per cento guardate guardate che roba cioè questi sono i giorni del dump ethereum ha fatto un bullish retest da manuale veramente pazzesco è andato a cozzare direttamente contro la prossima resistenza e potrebbe addirittura essere uscito da questo range gigante contro btc vedete perché è importante anche a volte guardare le alt contro btc perché questo secondo me se lo guardiamo su ethereum dollaro non lo notiamo vedete notiamo un andamento più laterale e purtroppo con un forte scarico che è stato proprio causato dal dump ma questo scarico è partito da bitcoin ethereum bitcoin invece è estremamente bullish come grafico comunque questo per dire che c'è un po' di anomalia nell'aria luna lo abbiamo già visto è l'altra come dire l'altra coin che si è comportato in maniera particolarmente bizzarra questo è luna btc che è ancora più esteso e bullish di luna usdt chiaramente siamo in una fase di intoccabilità adesso se vi stavate chiedendo se è il caso di entrare su luna oppure no la mia risposta la conoscete poi magari è sbagliata ma il mio punto di vista è quello e per il resto un altro un'altra cosa utile da guardare è la total market cap guardate allora la total market cap spesso è interessante perché ci dà una panoramica della situazione complessiva che in questo caso dopo aver fatto questo top cioè abbiamo qui un costrutto di top che è questa zona qua siamo ritornati qua sotto sotto ai 2.4 quindi abbiamo perso di fatto questo supporto di cui parlavamo le ultime volte siamo quindi adesso in questo blocco ve lo mostro allora un blocco che in realtà vediamo sul weekly se ci aiuta è un po' dubbio perché abbiamo due supporti molto vicini il primo dei quali è 2 2 trillion questo tac che nasce da qui vedete abbiamo supporto resistenza poi qua abbiamo un cluster qui abbiamo un'altra zona comunque di aggregazione e poi il secondo è 1.75 quest'altro che fa da supporto resistenza resistenza qua ha fatto un break retest e così via quindi uno e uno due questo è il blocco questo oppure questo che dir si voglia è il blocco in cui ci troviamo al momento più blocchi perdiamo più il mercato perde forza in questo caso se volessimo fare un ragionamento come abbiamo fatto su bitcoin sul precedente low il precedente low è qua quindi al secondo supporto questa è una cosa che ci aiuta è una benedizione se vogliamo no il fatto che l'ultimo bull market sia stato così forte perché perché avendo il precedente low così più in basso della del top quindi avere l'ultima leg up molto forte ci aiuta abbassando la probabilità di perdita immediata del low stesso perché altrimenti uno scarico come quello di pochi giorni fa avrebbe già potuto compromettere il low sia sul grafico di bitcoin sia sul grafico del mercato complessivo e quindi beviamo un po di acqua ghiacciata perché ci sta tutta vediamo vediamo sarà interessante vedere gli sviluppi ma è ancora presto per essere bearish qua anche qua si si va verso una probabile un probabile equilibrio una probabile lateralità in questo caso la ripresa dei 2.4 sarebbe un bull signal quindi ritorno subito qui perché faremo un bel reclaim vedete di questo livello di resistenza ma invece se facessimo un bearish retest e così via andremo incontro alla situazione di equilibrio per fare un parallelo con quanto detto su bitcoin potremmo fare una roba del genere oppure una roba del genere poi cerchiamo l'ai e così via ma comunque una situazione di equilibrio poi da andare a vedere in base agli ai e i low successivi come si risolverà basta tocca a voi cosa avete di bello da dire da chiedere e tutto quello che vi può interessare sunday swap in testnet bravo me l'ero segnato ma poi l'ho chiuso sunday swap in testnet finalmente alleluia era ora ragazzi finalmente non non so che dire sono curioso di vedere quando arriverà in mainnet se si potrà farmare se ci sarà qualche use case non lo so non non sono un grande fan lo sapete di di tutto ciò su cardano non ha influito non ha influito in nessun modo la notizia ormai era già stata assorbita in qualche modo e vedete che tra l'altro la price action come avevo evidenziato su su twitter insomma non è proprio delle migliori perché abbiamo un bearish test qua e ora sembra che la gravità voglia continuare a fare il suo corso una bella notizia di vederla in mainnet magari potrebbe aiutare però si vocifera che aspettate e ve lo dico c'è un rumor un rumor che dice che per arrivare in mainnet bisogna prima aspettare perché al momento al momento al momento vedete c'è charles che è indisposto è un attimino impegnato e quindi poi poi arriva però poi arriva allora cosa ne pensi di myer exchange completamente bloccato da giorni ho visto ho visto e che dire ho visto che tra l'altro dovrebbe ripartire avevo letto un tweet oggi stesso adesso ve lo vado a prendere che dovrebbe ripartire a breve aspettate beniamin dove sei eccoti il signor elrond il signor elrond dunque eccolo qua un'ora fa vedete il myerdex è quasi pronto lo rimetteranno up c'erano dei bug eccetera 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 qua ti spiega un po' tecnicamente e in sostanza vogliono andare a fare un'altra sessione di farming abbastanza intensivo parlavano di cos'è che com'è che l'avevano definito aspettate dove caspita è dove caspita è ecco la battle of yield che inizia oggi come oggi ha con la test net niente no era per avere un pool vabbè un pool neanche troppo gra 15 mila dollari da distribuire tra tutti comunque dice che andrà live probabilmente nei prossimi due giorni brutto colpo è questo però non non benissimo oserei dire perché insomma chi chi farmava non so se è stato contento perché di fatto tra il dump cioè proprio durante il dump un outage del genere non ci sta dai non ci sta diciamolo è stato un po' una uno smacco per elrond luke cosa ne pensi di ftp può seguire il percorso di bnb guarda io sono un holder di ftp da tipo sempre e sono un fan sfegatato di ftx cioè io ormai uso solo ftx per fare qualsiasi operazione a proposito ecco ne approfitto di per rispondere a una domanda che mi avete fatto in tanti sì ci sono un po' di problemi temporanei coi bonifici sepa su ftx perché stanno dialogando con loro provider insomma devono rimpostare alcune cose a questione di tempo quindi non non temete non non c'è niente di cui preoccuparsi solo purtroppo un piccolo disservizio per il momento e basta però per il resto ftx io sono stra bullish e quindi anche su ftp poi hai visto che hanno hackerato l'exchange bitmart ho visto ho visto e come purtroppo e insomma sono quegli exchange minori sui quali è meglio non aver niente a che fare a mio parere bisogna concentrarsi se si vuole lasciare coin sull'exchange che è già una procedura che andrebbe evitata ove possibile se lo si vuole fare di utilizzare quelli principali binance ftx crypto.com insomma i maggior bit panda coinbase insomma quelli un po più longevi un po più conosciuti un po più legit ecco come lo vedi harmony in questi giorni vediamo 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 harmony one btc e dunque dunque non benissimissimo non benissimissimo purtroppo perché ha fatto questo doppio top che non ha nulla di bello adesso sta andando attaccare i low che sono qua e mi pare anche sul settimanale sono libero eccoli qua c'è da vedere che cosa combina qui però ormai il top è molto lontano quindi i due scenari più probabili sono breakdown oppure equilibrio di nuovo quindi secondo me per un po adesso le principali a parte le principali altcoin le altre potrebbero stornare o lateralizzare quindi non non mi sembra un gran momento per per andarla a cercare ha senso buttare un cipino in vvs guarda io non lo farò te lo dico con sincerità non non sono un grande fan di quella coin super inflattiva anche lei per me per me no sinceramente per me no cosa ti piace di più di ftx ma tutto nel senso la possibilità di usare collaterale misto la moltitudine di prodotti che ci sono derivati spot su un sacco di coin future a scadenza perpetual eccetera 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 quindi niente niente male niente male occhio a spell verrà listato su coinbase ok spiegato il motivo del pump di oggi spiegato il motivo è meritato è se se posso cioè alla fine spell tanta tanta roba abracadabra tanta tanta roba se lo se lo merita scherzi a parte dell'albero di natale che era pura ironia sicuramente non l'avrete fraintesa sapete che io sono un super fan di di tutto quell'ecosistema come mai matic si è svegliato vabbè vabbè hai capito hai capito che qua abbiamo una zona volendo di entry proprio qui era estendibile fin quassù è però 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 niente male un bel candelozzo però insomma abbiamo questo high che è un po' antipatico è da andare a prendere ma la forza sembra esserci perché qui abbiamo una w una specie di test e spalle rotta rialzo con un candelone bello pieno bello direzionale e con tanto di sembrare test di non male non male l'inflazione della coin è l'offerta ma bisognerebbe valutare anche il volume della domanda per determinare il prezzo verissimo il problema è che buona parte di della domanda è data dal farming e la domanda data dal farming è molto volatile perché quando tu vuoi farmare esempio al lancio vvs ti dava degli apy folli allora tutti farmavano sull'auto vvs oppure su vvs cro oppure gli altri pool e allora cosa fai compri vvs per metterlo in pool o in staking e questo ne alza il prezzo non dampi perché cresce ok feedback positivo eccetera 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 però quando le cose cambiano c'è veramente uno scarico forte cosa che è accaduta no è dampato in maniera terribile il prezzo di vvs e quindi è un andamento di questo tipo quello della sua domanda è fortemente dipendente da quanto vale la pena farmare rispetto a tutto il resto adesso sì ci sarà anche l'incognita tonic ma tonic sarà una cosa lampo no c'è lo snapshot e finisce lì non è che poi è a lungo termine quindi io farei molta attenzione in generale ma come mai link non performa mai granché data l'importanza è strano è vero link è fondamentale per la defy è l'oracolo con la o maiuscola però la token onyx non è delle migliori non è proprio un granché ed è in bear market da ormai da quanto da da quest'estate non benissimo sul macro soprattutto no cosa sto dicendo non è questa estate agosto 2020 e questo è il settimanale quindi è in forte bear market purtroppo la price action rivela quello che poi è domanda offerta come giustamente dicevate voi cioè la domanda perché detenere link cosa ci fai con link lo collateralizzi per prendere in prestito stable boh non lo so cioè di fatto intrinsecamente non lo puoi mettere in staking non lo puoi usare cioè serve a chi ha un nodo c'è il link quindi a chi di fatto da un feed di dati quello lo paga coi link e cioè c'è un sistema economico in link ma per noi utenti medi non ha molto senso e quindi forse manca un po la domanda non saprei ciao luca hai mai pensato di fare una serie di video anti scam dove analizzi peggiori progetti innominabili e le motivazioni tecniche per cui vanno evitati no io preferirei concentrarmi di più su su quelli validi che su quelli scam cioè magari potremmo fare un altro video dedicato agli scam con la s maiuscole a come evitarli quindi i ponzi l'avevano già fatto in passato e bene o male sostituisci i bit connect con quelli noti di oggi e non cambia molto no non è sempre la stessa minestra ce n'è sempre di nuovi ce n'è sempre di nuovi adesso cos'è che c'è ai dollar il nuovo abbiamo un nuovo insomma non manca mai la fantasia no ce n'è sempre una sempre una vabbè dunque 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 vediamo vediamo le ultime domandotte dunque aiuto siete troppi fermatevi fai un po di pubblicità al bitcoin italia podcast missione el salvador ragazzi sono i numeri uno c'è poco da dire ecco parlavamo di valore andatevi ad ascoltare il bitcoin italia podcast che sono andati insieme sono due ragazzi sono andati all'el salvador a fare stanno un mese lì e stanno facendo un documentario penso in podcast per ora poi li volevo invitare in video anche per raccontarmi come va e provano a fare tutto in bitcoin a vivere in bitcoin figata pazzesca massimo supporto ai ragazzi di bitcoin italia podcast super super top e dunque 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 come ha messo il tuo show di copertura è ancora attivo e tra l'altro sto pianificando l'eventualità di rinforzarlo di rinforzarlo con però dipende cioè se andiamo a invalidare la struttura come al solito cioè se andiamo a fare un low più basso allora lo vado cioè se andiamo a perdere il low qua sotto vado pianificare un altro show di copertura la prossima leg up quindi vado a cercare un po di rafforzare lo short che al momento al 5 per cento quindi estremamente basso però l'ho ottenuto proprio perché non vedevo troppa forza nel mercato c'era ancora era ancora la volontà era ancora ecco di di tenere un pelo di posizione scoperta cioè scoperta nel senso coperta scoperta da bitcoin intendevo dunque 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 se chiedo di hyperfund mi viene detto solo scam e nessuno spiega mai perché dai basta ecco sta storia con sta storia del paga paga allora non è uno scam fate attenzione non fatevi del male io vi dico solo questo ragionate cercate di capire perché non ci vuole molto poi a capire basta ragionare ripeto quanto è sostenibile una certa cosa e non fatevi del male vi prego non fatevi del male perché se no se se poi vengo a sapere che qualcuno di voi è stato scammato quando succederà non vi rivolgo più la parola non vi rivolgo più la parola miglior modo per entrare in btc gradualmente fare piccoli take profit nel corso dell'anno allora un piano d'accumulo è cioè quello che stai dicendo no di fatto quindi ci sono tanti exchange che te lo fanno fare c'è the rock trading young platform rimanendo in italia in europa bitpanda coinbase crypto.com il problema è che hanno tutti un po di commissioni per fare i pack quindi se oddio avevo fatto vedere come si fa anche con ftx però adesso non ci sono più i bonifici sepa quindi purtroppo e lì avevi le commissioni a zero come del trading di ftx e avevo fatto anche il video dove spiegavo come farlo poi 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 come muovere liquidità su astroport non si capisce molto su terra swap e in realtà bisogna dare liquidità a terra swap e poi spostare l'lp su astroport cioè tu devi andare a mettere liquidità nei pool di terra swap ti dà il token lp prendi il token lp e lo stake su astroport quello sarà il discorso quando possiamo entrare in luna dacci qualche indicazione di prezzo e amici miei è una bella domanda è una bella domanda perché è molto esteso e al momento secondo me speculativamente non è che abbiamo tanti supporti no quindi io me ne starei bono detto questo io continuo il mio pack perché è un pack e non se ne frega niente del grafico non è che il pack se il grafico pompa dump e chiac cambia il suo bello è proprio l'agnosticismo al prezzo e quindi è un discorso appunto di lungo termine no orizzonte temporale di anni molti anni e mentre speculativamente chiaramente non è il momento perché siamo in estensione folle non so se sul breve sì sulle quattro ore ma cioè non lo so non mi sembra un gran grafico da tradare sulle quattro ore questo non vedo particolari pattern né setup quindi è un po in estensione prima o poi ritraccerà anche luna ritraccia non è che è la mia una delle mie coin preferite ma ritraccerà perché è molto esteso e il mercato non perdona l'estensione quindi non fatevi male anche qui mi raccomando come va con ronda o può essere un buon momento per entrarvi cipino 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 è la parola chiave cipino perché rome come le altre coin nodi delle forche dei dao è dampevole no e mi pare che abbia dampato abbastanza ricordo che era 500 dollari l'ultima volta che ho guardato fatemi ceccare 500 dollari esatto alla fine è un gioco di lungo termine no quindi è una scommessa perché è gambling no e fa parte del gambling mi sembra carina come piattaforma l'idea è bella il cioè la collaborazione con olympus e tutto quindi io il mio cipino rimane lì sapete che l'idea non è quella di muoverlo più di tanto no il cipino è la scommessina buttata lì tra l'altro deriva da wonderland dai proventi di wonderland quindi è il cipino che si è sdoppiato in sostanza però è sempre con un approccio di scommessa cioè non non bisogna esporsi su queste cose con capitali importanti mi raccomando non fate ste follie perché poi rom dampa o magari la piattaforma va in default cioè può succedere qualsiasi cosa è fortissimamente sperimentale quindi è veramente da cipino abbiamo coniato questa nuova dicitura che mi piace un sacco che è quella del cipino nuova unità di misura del sistema monetario mondiale che prevede proprio il cipino come quella cosa è che butti toh da buttiamola via giochiamo al super enalotto questo deve essere il il concept no dietro al cipino e però adesso hanno lanciato tra l'altro la le campagne le prime campagne dovrebbe arrivare la warm up un po di cose in ballo ci sono quindi il mio cipino ce l'hanno è lì lo tengo punto appunto ripeto al compounding il gioco è quello lì il gioco del compounding non del dentro e fuori al momento giusto ecco poi chiaro io sono entrato che il prezzo di rom era 900 circa se mi va 10 per chiaro che non è che faccio l'avido no tiro fuori qualcosa la scommessa è vinta in quel caso lì no questo è il discorso bisogna capire quando la scommessa vinta e quando la scommessa è persa no è una specie di trading tutto sommato comunque torniamo a noi torniamo a noi cosa ne pensi dei cripto panini che cos'è che cos'è sta roba ma che cos'è mio dio luca per quali cifre per te da quali cifre ha senso detenere le cripto su un ledger guarda cosa costa un ledger un centinaio di euro secondo me se pensi comunque di investire in cripto nel tempo di detenerle nel tempo e di accrescere il tuo capitale è un piccolo investimento che vale la pena fare ok quindi questa è una cosa è chiaro che se invece hai 100 euro di cripto 200 euro di cripto così giusto per non vale la pena ma se vuoi farlo seriamente un hardware wallet vale la pena ok non c'è solo il ledger ci sono anche altre cose ci sono più chip c'era il safe pal che non era male insomma ci sono varie opportunità il ledger nano esso non hanno x e così via vediamo andiamo avanti analisi del grafico di solana subito subitissimo allora sol btc ecco guarda questo è un altro grafico che ha tenuto ha tenuto botta è pazzesco cioè si stanno creando due fazioni una fazione di di al coin che sono vanno dove tira il vento una fazione di al coin solide che invece tengono botta e sono quelle che hanno permesso alla dominance di bitcoin di non tornare in uptrend e solana è tra esse se adesso andiamo a vedere la top ten sta diventando quasi sensata perché allora gli intrusi nella top ten a mio parere personale quindi ripeto non mangiate milanima per quello che sto per dire ma io qua dentro vedo come intrusi cardano e ripple e vabbè dogecoin a undicesima quindi non è in top ten ma tolti questi due intrusi che secondo me non valgono la capitalizzazione che hanno il resto ha senso perché abbiamo ethereum bnb che è comunque le chain più usate solana le stable polkadot luna ci stanno tutte e poi avalanche anche lei ci sta assolutamente polygon cioè c'è il valore di fatto no sta stanno prendendo capitalizzazione le coin che hanno valore cro vbtc algo comunque cioè non non sono più le fuffa coin che prima erano lì per caso adesso le coin più capitalizzate bisogna segnarselo sono i layer one e i layer two basta è lì che vala il tutto perché sono piattaforme che portano valore portano applicazioni è lì è ormai che si cubano che cuba il valore poi ci sono un po di shit coin a destra e sinistra un po di di hype coin come ripple e cardano e però per il resto vede bitcoin cash che non si può guardare però per il resto vedete che più o meno la situazione è valida ftp che un po alla volta arriverà anche lui secondo me b chain cosmos che è un insomma un mio sorvegliato speciale per l'anno 2022 ne parleremo magari e così via però questo fa capire come cioè il fatto che queste coin solana ma anche bnb se guardate bnb ha tenuto abbastanza bene guardate bnb btc durante il dump anche lui ha fatto delle dei massimi no locali su su bitcoin e lo stesso vedete bnb solana polkadot cosa ha fatto non ci ho fatto caso perché non lo detengo mea colpa tra l'altro ma dot a no dot no dot non non ha tenuto tanto botta ma perché in una fase un pelino di storno sta ritornando alla ai 5000 sat questo questo supporto qui vediamo come reagisce qui per il resto vabbè o se facesse così staremmo parlando comunque di un uptrend quindi non succede nulla non me ne vogliate non succede assolutamente nulla però ecco non ha fatto faville durante quest'ultimo dump ma probabilmente a causa della sua impostazione grafica poi luna folle avalanche cosa ha combinato vediamo avax avax è in fase di storno ma già per i cavoli suoi e comunque si diciamo che il dump non è che l'abbia sentito più di tanto se invece andiamo a vedere che ne so doge bitcoin ci dovrebbe essere no doge bitcoin vedete ha flash dampato ancora più di più shiba shiba bitcoin non esisterà andiamo a vedere shiba usdt va bene anche neanche troppo in realtà non ha dampato neanche troppo e però insomma altre altre coin magari minori hanno hanno subito un po di più vi hanno visto tipo harmony che ha dampato anche lei vedete con tanto di shadow quindi ci sono un po queste due fazioni no delle altcoin che stanno diventando veramente delle rocce cioè altcoin che è quasi un peccato chiamarle altcoin ormai no sono veramente solide e portano valore intrinseco perché sono chain usate molto usate e dall'altra parte abbiamo le altcoin con il concetto che avevamo in passato quindi speculazione così aspettativa cose a caso no questa è un po la distinzione da ver ben chiara in mente per per investire in maniera oculata poi andiamo a guarda un po il metaverso ecco il metaverso è troppo troppo in hype secondo me per quanto io ho una certezza che è il futuro cioè non ho dubbi non c'è ombra di dubbio ad esempio sand cioè the sandbox the central and quei vari metaversi non potranno fare altro che crescere il problema è che adesso sono in hype folle sand btc vediamo com'è messa è estesissima cioè guardate che roba è troppo estesa no a me fa una paura dannata una coin così per quanto ripeto sono bullish in generale sui metaversi quindi mi mi aspetto il metaverso ti va di traverso esatto c'è un po quel rischio lì non ho ben capito quali sono le coin di layer one e layer 2 allora i layer one sono le blockchain no solana cardano polkadot qualcuno lo chiama layer zero ma si può anche definire layer one e phantom avalanche eccetera eccetera i layer 2 sono quelli invece costruiti su ethereum quelli per scalare ethereum ok come ad esempio polygon e poi molti che non hanno token abbiamo optimism abbiamo come si chiama si buonanotte arbitrum e così via poi c'è immutable x a proposito immutable x dov'è in classifica immutable x è giù eh dove sei dove sei dove sei dove sei me lo son per eccolo qua 92esimo questo è un layer 2 interessante abbastanza interessante che però non è ancora esploso particolarmente ma perché forse cioè è destinato esclusivamente agli nft questo questo layer 2 però ha il suo perché ha il suo perché dove si trova su ftx vabbè 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 e invece tipo tokamak che lo sta tenendo d'occhio anche lui che mi va a fare un bel dampino quasi quasi adesso penso a voce alta eh perché no perché no perché no vabbè ma ne dobbiamo ancora parlare per bene quindi non non è il momento non è il momento allora allora amici miei io direi che volevo provare a metter su un validator solana sai se a numero chiuso ancora si può no no credo che si possa ma è stra competitivo e che dire è un po' costoso ecco dispendioso dispendioso assolutamente dispendioso vediamo quali sono al momento le migliori strategie per mettere in staking solana e matic allora matic non non lo so matic in verità credo su 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 poligon stessa ci sarà ave per collateralizzarlo immagino penso proprio di sì perché liquid staking di di poligon di matic non credo ce ne siano mentre di solana sì quindi c'è solana avevamo fatto anche tutto il giro no l'avevo ne avevo parlato proprio nel nel video le 5 coin da mettere in staking che solana è ottimo perché fai un giro usando marinad e parroth che fai sol m sol lo collateralizzi per prenderne un'altra poi quell'altro lo metti nel pool e fai tutto un macello e poi c'era un apy non male matic su impermax ecco grazie grazie mille grazie mille